Sette anni di carcere sono stati inflitti ieri a Andrea Morana, residente in via Alga, nel processo che si è concluso a Venezia. Morana è stato riconosciuto colpevole di aver colpito per futti motivi il signor Paolo Marangò il 10 dicembre 2022, causandone la morte in seguito alle gravi lesioni che purtroppo riportò per la caduta. Il suo vocato Mauro Serpico, noto per la sua difesa in numerosi processi di cronaca nera e legati al mondo dello spaccio della droga, è riuscito a ottenere con un patteggiamento una condanna di sette anni, che viene considerata troppo lieve da molti, dati precedenti e lo stile di vita sregolato di Morana. Morana è uno dei protagonisti del degrado del quartiere, contribuendo a totale svilimento economico della zona. Di fatto, il valore degli appartamenti di via Alga e vie vicine è precipitato nel corso degli anni e chi vi risiede per poter vendere lo può fare solo con prezzi di svendita. La morte di Morana è solo uno dei tanti in cui Morana è stato coinvolto insieme ad altri soggetti, tra cui il famigerato lo smilzo, noto per i furti, il cui ciclo criminale sembra destinato a ripetersi, che, non dimentichiamolo, è sempre collegato ai problemi che sorgono con lo spaccio e l'uso di stupefacenza. Secondo quanto riportato sull'articolo di oggi sul Gazzettino nella cronaca di Chioggia, potrebbe essere presentato un appello contro la sentenza. Si spera che possa portare a una condanna più severa, in considerazione non solo dell'omicidio causato per motivi assurdi, ma anche per tutto il degrado che direttamente e indirettamente è responsabile di Morana. È da notare che, nonostante la condanna, Morana è stato condannato al pagamento delle spese legali, ma essendo privo di reddito, la famiglia e gli avvocati non potranno ottenere alcun risarcimento. La responsabilità di tutto, però, ricade anche nelle amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni e che, di fatto, non hanno fatto nulla per evitare che tanti soggetti malavitosi diventassero residenti permanenti nel condominio comunale di Vialga. Dovrebbe essere il comune di Chioggia a risarcire tutte le famiglie che hanno avuto un danno permanente per questi soggetti. Le Mille Una Notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio li trovi a prezzi da favola. Le Mille Una Notte di Elisa riposi bene e risparmi Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.